Massimo Laporta, candidato della coalizione Destinazione Agropoli, sceglie il lungomare San Marco per replicare alle accuse di Franco Alfieri, mosse dal palco domenica sera. Una risposta a muso duro che ha toccato alcuni dei temi scottanti di questa campagna elettorale, tra cui la vicenda delle alghe e del porto furbo all'Idoazzurro, rispetto ai quali Alfieri aveva cercato di minimizzare le proprie responsabilità, chiamando in causa proprio la gestione di Laporta. Quest'ultimo, mostrando atti amministrativi a sua firma, ha rimarcato la sua presa di distanze già all'epoca dalla linea tracciata dall'allora sindaco Alfieri. Chi vi parla è dal 2015 che ha sottoposto alle passate amministrazioni la risoluzione del problema. Ieri sera si voleva raccontare che grazie a una legge che è stata fatta il 2 di maggio riusciamo a dare una percentuale del 30% per lo smaltimento in biomassa. Siamo ancora alla fantasia. Qui c'è un problema da risolvere e noi lo risolveremo subito, rimuoviamo tutto quello che c'è sul Lidoazzurro e sulla spiaggia della Marina, con il coraggio, sappiate bene il coraggio che tanti di loro non hanno avuto e volevano eticottare il sottoscritto che ero d'accordo. Io ho indicato con atti deliberativi, con atti di indirizzo che poi metterò sul nostro sito e se la regia li metterà sul video faremo vedere ai cittadini che cosa ho proposto io già nel 2015? Un sito di stoccaggio per liberare le spiagge e portare questo materiale e gestirlo nel riutilizzarlo in bioagricoltura, in bioedelizia ma non si può arrivare a giugno ad avere ancora il problema Poseidonia. Poi si parla nella fantasia, cercheremo i sordi alla regione e annualmente toglieremo. Cosa? Ci sono 21.000 tonnellate di materiale. Se come vogliono fare, stanno tentando di fare, spero che non verrà affatto perché sprecheremo altri 500.000 euro, il costo per lo smaltimento di quella roba ci costa 150 euro a tonnellata. Non è possibile sostenere questi costi. Li dobbiamo riutilizzare, questo prodotto lo dobbiamo riutilizzare e gestire, gestire tutto l'anno. Ecco che cos'è una manutenzione ordinaria che diventa straordinaria quando avviene nello spiaggiamento. Queste pratiche sono state consigliate di chi vi parla, non sono stato mai ascoltato, mai, mai. Quando c'è stato il problema dell'Itazzurro ho cercato di far capire che il braccio era un problema. Ho scritto al sindaco, alla giunta, alla direzione lavora, ai progettisti. No, la porta deve essere accerchiata, non deve dare nessuna soluzione perché la porta è un problema, un problema che secondo loro è che la mia competenza non serviva alla città. Ebbene signori, se mi date il piacere, la mia competenza la metto a disposizione di questa città bellissima. Dure risposte sono anche arrivate da Emilio Malandrino e Gianni Petrizzo, entrambi esponenti della civica La Nostra Agropoli, a cui il sindaco di Capaccio Pessum aveva rivolto pesanti invettive. Entrambi hanno replicato a muso duro sconfessando quanto asserito dal leader PD locale. Devo dedicare qualche minuto a un personaggio ingombrante, a un personaggio improbabile. Stasera faccio il nome. Quel signore di Torchiara che si chiama Franco Alfieri, che è il solito cafone della politica, che è il solito volgare della politica, che è il solito arrogante, prepotente che slitta e gira da anni su questo territorio. Ma la gente, guardate, ne ha le tasche piene, non lo sopporta più, non lo vuole più. Ieri, guardate, a un certo punto io immaginavo di essere al 29 di giugno, perché immaginavo che fosse la festa dei patroni di Agropoli, perché ho visto arrivare una processione verso il palco, ma il padrone era uno solo, era il padrone di Agropoli che saliva con il codazzo per andare sul palco. Ma veramente possiamo sopportare che ieri anziché sentire i candidati, il candidato sindaco, sentiamo sciorinare un'ora, sempre il solito a darci lezioni. Questo paese si ribellerà a questa storia, non lo vuole più, il grande referendum è su di lui, è sul metodo che ha imposto a questo paese, è ora di smetterla. A un tale presidente dell'Unione dei Comuni, Pestum Alto Cilento, schierato evidentemente con Roberto Mutalipassi, che attacca me su un video che ho realizzato. E io mi chiedo, ma lui che c'entra? Ma lui che c'entra? Il video era indirizzato a un consigliere uscente che ha minacciato un mio candidato. Perché risponde lui? Lo sapete voi? Me lo dirà forse? Io mi sarei aspettato, da un leader qual è, di una telefonata. Gianni, se è così, corriamo subito i ripari. Un leader fa questo, no? Se c'è una politica che non è quella che io considero la politica delle idee, allora un leader dovrebbe fare pulizia, invece che fa attacca me. E la gente dal palco ride, mi deride. Complimenti. Questo è il nuovo futuro di Agropoli? Questa è la nuova gente che noi vogliamo? Io non voglio questo. Si attende ora l'ultimo appello al voto di Massimo Laporta, che dovrebbe svolgersi, come per gli altri candidati a sindaco, venerdì sera, nella giornata conclusiva di questa settimana elettorale, direttamente dal palco di Piazza Vittorio Veneto. Palco che invece ospiterà questa sera alle ore 20 i candidati della coalizione Liberi e Forti, che illustreranno con il candidato sindaco Raffaele Pesce i punti del proprio programma amministrativo.